Ed eccoci al nostro momento musicale, vi ricordate una famosa canzone del Geekles che faceva più o meno così? Oh bloody, oh bloody, oh life gone, bro, lai la 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 Non dovete applaudire me, ma applaudite i Boy 6, loro si che meritano un applauso I Boy 6 and in famiglia, benvenuto, ciao Gian Piero Ciao ragazzi Allora, voi c'ete un gruppo che vi propone canzoni celebri, molto famose, riaggiornate in modo molto particolare Riarrangiate in modo molto particolare Ma il vostro gruppo come è nato? Perché venite da esperienze musicali diverse e quindi c'è sicuramente una componente di amicizia Nasciamo proprio all'insegna dell'amicizia, nasciamo nel 90 quando i quattro ragazzi provenienti dall'esperienza di canto popolare Trovano solo in loro strada le due ragazze che voi che vedete Anche loro avevano un'esperienza di tipo musical, qualcuna esperienza in musica jet e vocale eseguita in piano bar Voglia di riproporre brani così come vengono, con tanta allegria e con tanta voglia di improvvisare E allora con tanta allegria noi adesso vi facciamo ascoltare i Boy 6 in una ragazzona molto famosa dei Beatles Sobladio Bladà, mettiamola, mettiamola dentro, via, pronti, Boy 6! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!